Buongiorno a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. ... 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 Questa è quella che si querì? Un'altro è sempre un xiaubìa. E' da l'iscia, e' da tecchieta esercato. C'è un'area che si chiara a tecchieta esercato, a favore, a favore, se allora siamo pronti, e ci ha avuto un po' questo. Ma è una cosa che si chiara a tecchieto, ma è un paese, perché non sia un paese, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti